E' un incontro sulla distanza di 6 rounds, valevole per la categoria pezzi in medi, abita l'incontro del signor Marco Mazzuoli di Roma. All'angolo blu, al peso di 70 kg e 300, in pantaloncini nero-oro e con un record apagetista formato da 4 giorni di scontati. Due vittorie per lui, una dei quali per Capò e due son figli. E' accompagnato all'angolo da Igenia Niuzzi, Federico Giorgi e Valerio Monti per il team Revolution da Roma, Angelo Martino. Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 70 kg e 700, in pantaloncini argento-neri e con un record apagetista formato da 4 vittorie, due delle quali per Capò. Al suo angolo, Alessandro Del Moeti, Umberto Mazza e Domenico Condello. Per la BBC Production da Roma, Iuri, da Poi, Duparelli! Non ce vuole fare una canzone? Il quale Shuttle è la Justi? Qui no. Solo sotto gli scariesti, te la mando con la voce. C'era anche lui la4 hani una poca. Noi la faccola. Chi è diecchietto i bucconi di questo? Che è quello qui? Sì, anche quello. Cos'è? Non come usa? Non lo frende, non lo fardı, non lo f�데. Non lo fanno con l'angolo. Non lo fanno con l'angolo, ma Victory, vive potentially in Poi, oi anche questo. Vieni, vieni, vieni. 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 Vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni. Vieni, 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 vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. 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 Vieni, vieni.